Oggi siamo qua su WeeBatYOU ovviamente in compagnia di mio padre No ovviamente questa volta non solo perché avevamo detto che comunque mia sorella sarebbe rimasta e è rimasto ragazzi Anche perché stiamo registrando che sono le 2-20 di notte Pensa tu, come stiamo all'edito Io sto incomodo male al lavoro quindi Perfetto, però comunque continuiamo perché cosa vogliamo fare in questo episodio? Volevamo fare caccia al Mii In caccia al Mii bisogna ritrovare un Mii mescolato a molti soci Il mio ricercato dovrà indirizzare i ricercatori descrivendo ciò che lo circonda guardando il gamepad Quindi questo credo sia molto molto carino Sì ma non giro lo stesso gamepad Ah beh però comunque ad esempio tu dovrai dire ok è così è così è così Ogni mia turno io direi che fare questo e chi ha il mio facciamo a turno Sì Ok è normale o alta ragazzi? È normale, è normale No dai buttiamoci nell'alta No 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 Buttiamoci nell'alta No Tanto che cosa abbiamo da perdere? ma io ti ricomando due o tre no no perché ad esempio se io faccio se io devo descrivere se devo descrivere mi sarebbe pure soltanto questo ah ok dammi il gamepad vai ok io quindi ho la testa da cagnolino hai tutti i cagnolini sono? appunto vediamo se mi riuscite a trovare ragazzi dove stai fammi vedere io vi dico dove mi trovo dove sono insomma devo descrivere ah la parte della zona si allora sto vicino a una galassia ok io a me non parlo allora devo confermare la modalità di giorno allora io sto vicino a una galassia sto a un parco con le stelle con un razzo c'è un razzo ragazzi c'è un razzo e vicino c'è anche un po di neve no che fregatura ho fregato tutto c'è un razzo un mondo una galassia razzo un po di neve si oh eppure un razzo sta qua ok ciao si vedevi di chi sta il più vicino e c'è il pavimento stellato e sono capito un lato vicino a un mondo gigante questo yoo no che è vicino al mondo gigante con un razzo vicino mappamundo si è ancora quella cosa sta facendo sono due però chi sarà cosa è quella di prima tempo qua che ho visto no vedi che fianco chissà più che stai più vicino no ma perché non ti vedo tu mi vedi no allora dove stai allora è l'altro razzo se ce ne sono due credo di sì ah sì ce ne sono due che vedo la tizia c'è una galassia una galassia blu coi cerchi bianchi intorno con i cerchi bianchi intorno non ho ancora disegnati ora che io non mi vedo io sto faccio in giro comunque ci sono due galassie andate a vedere andate ne una dica porca miseria ce ne sono due di galassie dividetevi non l'avevo vista non l'avevo vista l'altra galassia io vedo alizia e papà no 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 acqua lì acqua 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 vicino alla galassia sto vicino al razzo vicino vicino al razzo vicino cavolo dove papà sta qua ma no papà sta qua ma no papà sta l'altra eppa si un punto faccia miseria che ti trovavo vediamo il vostro percorso faccia che ho fatto c'è un solo dell'altra galassia io non lo sapevo io andavo in giro come un pirla anche perché più o meno il parco è simile vedete eh sì è per confondere apposta vedi guarda alizia stava la oh porca miseria oh a chi tocca alizia penso ok a chi tocca alizia penso io ho un punto perché già avete messo tanto tempo mannaggia oh non è possibile sto faticando e tu dai mi ha cambiato che bello ah sì quindi tu descrivici bene sto vicino a un pub sto vicino a che cosa ah vedi sono furti per te allora facciamo una cosa se ci dici tipo vicino alla torta io vado a questa torta e tu le vai a allora io proprio di fronte a me aspetta però dimmi conformare ah un dado dici di fronte a me di fronte a me c'ho un dado enorme e di fianco c'ha un albero e una gamba dov'è il dado adesso? è l'altro e una casa grazie al cavolo a forma di gelato allora aspetta eh un dado enorme un dado? ah una forma di giocattoli e vedo bene tipo una fortezza con i giocattoli aspetta eh ok dov'è l'altra parte? ma caga ahahah non si fa sorridere ma dai più 100 non si fa sorridere l'ho già trovato ma mi ho cambiato e io che devo fare? veramente sei un'altra persona ora no dove stai? dove stai? sembro come sembra la? ah devi cercare pure tu papà sta qui ecco uffa l'ho trovato subito ma scusa però tu non devi muovere no ah devi rimanere la non lo so se mi posso muovere no non credo cioè forse io sono proprio la davanti alla portenza esatto vabbè mi ha fatto tutte le dedicazioni buone tutte eh sei stata fortunissima poi papà tu stai qua eh infatti ti ha girato intorno ho fatto subito la corsa del granchio ok allora attacca papà mettiti lì almeno non ti vediamo come tu c'è andato ah si perché ho preso il resto del tempo ok vai oh che carino vedo un po' tutti quasi della musica ok quindi mi preme ci dividiamo ok se dici treno tu vai la io vado vai allora io sto se mi giro c'è una locomotiva con un aereo ok allora io vado di vado qua sempre dove sta tutto vai dall'alto una locomotiva con un aereo sto davanti vado a fare indicazioni decise si e sto davanti ad una macchina davanti ad una macchina però di colore di colore di colore rosso no verde ahah allora via 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 eccola 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 ci sta ci sta ecco ti vedo ti vedo ti vedo non sei non sono io ahahah si sono io no no sto davanti alla macchina verde oh ecco ti vedo ti vedo eh lì sia eccola eccola eccomi anche io vai ciao ciao ehi eccomi ahahah invece quando siamo divisi io guarda non riuscivo a trovare l'altro ahahah infatti non so perchè sei andata davanti io ho pensato subito ma ti vedi l'altra macchina era blu o geleste rossa o no rossa o gialla è verde è l'unica 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 era l'unica era ho vinto io no si ho vinto io tu hai vinto ma io sono l'ultima addirittura complimenti ha vinto Alicia bella bella ok comunque noi volevamo provare qualcos'altro quale? isola gamepad qual è? no dura troppo ma che dici? quanto dura? 35 minuti no vabbè allora ragazzi facciamo il prossimo episodio si però soltanto se raggiungete i 30 mi piace 30.000 dopo i 30 mi piace facciamo un altro episodio magari quindi spolliciamo se poi diventa troppo lungo anche lo tagliamo o comunque lo dividiamo in due pezzi isolati in pad semplicemente si quindi io direi che possiamo fermarci con questo episodio lasciate un mi piace commentate e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto ciao a tutti ahahahah grazie a tutti grazie a tutti